Vi parlo del nuovo numero di dimagrire. Vuoi dimagrire? Vuoi dimagrire per davvero? Incomincia a sentirti solo. Ricordati bene, come ho scritto in molti libri, che è un compito tuo. Dimagrire è un compito tuo. Non aspettarti l'applauso degli altri se ce la farai. Anzi, anzi, susciterai molte invidia. Mi scrive una signora che dice che nel posto di lavoro, quando sono arrivata, tutti con me erano molto gentili, molto carini, poi a un certo punto ho deciso di dimagrire e ce l'ho fatto e ho perso 15 kg. Mi sono accorto che da quel momento, a parte che ho ritrovato la mia bellezza, mi sentivo in forma, stavo bene, però mi sono accorto che sul lavoro le altre donne mi guardavano con un certo distacco, come se non volessero più frequentarmi, come se fosse diventata diversa. Non ero più la compagnola di prima, ma ero una donna da lasciare sullo sfondo. Quando noi ce la facciamo, gli altri provano invidia. Perché l'invidia non è soltanto per te che hai perso peso, ma perché tu sei riuscito ad avere un sorriso, un'espressione, un modo di essere, dimagrire, soltanto dimagrire per chi era ingrassato prepari il regno della gioia. Bisogna a un certo punto della vita dire basta. Basta che cosa? Al fatto che io faccio tutto questo per piacere agli altri, per essere conciliante, per andare d'accordo di più con gli altri. No, è un compito tuo, spetta a te. Non è un compito da condividere con qualcun altro. Molti mi scrivono, io e mio marito ci siamo messi a dieta ma non funziona. Per forza, perché il problema di dimagrire non è tuo e di tuo marito, è tuo, soltanto tuo, appartiene a te. Gli alchimisti dicevano che ci sono due mondi che ci appartengono, un esteriore. E nel mondo esteriore noi in realtà spesso combattiamo per delle foglie che stanno già cadendo, manteniamo in piedi i rapporti, lottiamo, cerchiamo di cambiare le cose. No, non c'è da cambiare niente. Dimagrire vuol dire che io attivo l'occhio interiore, lo sguardo interno. Io voglio ritrovare quel sorriso, voglio avere quel sorriso, quella gioia, perché mi sono liberato da fardelli mentali che facevano ingrassare il mio corpo, perché ingrassare è sempre figlio di zavorre mentali. Su questo numero di dimagrire io mi soffermo molto anche su persone che ingrassano dopo una separazione. Una signora per esempio che il figlio va via da casa, un'altra signora che si è lasciata col marito. Perché la separazione non dobbiamo vederla invece come liberarsi da zavorre? Se va via un uomo o se va via una persona che non ti vuole più, non è il momento di riappropriarti di te? Perché dimagrire vuol dire riappropriarsi di te, riappropriarsi di te. Nessuno può star bene se non si riappropria di se stesso. Allora è molto importante quello che i nostri esperti scrivono sul giornale, è molto importante occuparsi di come mangiare, di che cibi prendere, di che cibi non assumere, dell'attività fisica, è molto importante. ma se parliamo di psiche, noi dobbiamo sapere che la psiche ha dei codici che non possono essere soppressi. Psiche vuol dire andare nel regno del cervello, dell'ipotalamo, tirate queste due linee, lì si incontrano, lì c'è l'ipotalamo, dove si formano gli ormoni, gli affetti, i sentimenti, i contemporaneamenti, i desideri. Quindi quando qualcuno mi dice, per dimagrire devo cambiare vita, no, per dimagrire devo cambiare semplicemente lo sguardo. E lo sguardo più importante, come ho risposto a questa signora, è io non sono qui per ricevere gli applausi, sono qui per dimagrire. Chi lo approva bene, chi mi invidia pazienza. Tenete presente che voi che ce l'avete fatta dimagrire, suscitate negli altri l'invidia, non soltanto per il dimagrire, ma perché magari loro hanno dei problemi che non hanno risolto. Quando dici, non vado d'accordo con mio marito, con mio figlio dei problemi, sul lavoro ci sono delle cose che non vanno bene, beh no, 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 io penso a dimagrire. Perché se il mio corpo ingrassa il mio problema è dimagrire, non ci sono altri problemi. E bisogna togliersi dalla mente quella frase terribile, ingrasso perché sono frustrato, ingrasso perché sono infelice, ingrasso perché nessuno mi capisce, ingrasso perché nessuno mi ama. Non è vero, ingrasso perché io non mi sto prendendo cura di me. Buona lettura.